Più di 11.000 visitatori e un milione di utenti sui social. Bilancio straordinario per Luca Biennale Cartasia, che con la chiusura della dodicesima edizione ha celebrato 20 anni di successi di un evento che sa fondere arte, creatività e innovazione e che rende la città il centro di un dialogo internazionale sull'arte contemporanea. Oltre all'offerta artistica, questa edizione si è distinta anche per la sua ricca programmazione di eventi, configurandosi come un vero e proprio festival multidisciplinare dedicato alla carta, capace di offrire spettacoli, presentazioni e conferenze a tema. È stata un'edizione unica nel suo genere, sia a livello di tipologia di eventi che abbiamo realizzato, che per il calendario che è stato molto ricco e anche la partecipazione che ha visto veramente un pubblico molto variegato. Ci sono stati circa 10.000 visitatori alla mostra Indoor Fashion e Design e a Palazzo Guinigi, che è stato davvero apprezzato da persone anche del territorio, diciamo, toscana, che non avevano mai avuto la possibilità di vedere la struttura in questa modalità, dato che è stata restaurata da poco. La Biennale passata, di cui ha già parlato Federica, è stata molto importante per noi, anche a livello artistico, perché tutti gli artisti che abbiamo coinvolto e le sedi che abbiamo realizzato probabilmente era la Biennale più bella di sempre, ma sarà probabilmente la più bella di sempre quella del 26. Tra l'altro, tra le novità che stiamo attivando, abbiamo realizzato un Digital Twin della Biennale di quest'anno, che metteremo online a disposizione per i visitatori. Questo vuol dire molto, perché vuol dire riuscire a continuare a far vivere la Biennale anche nel corso degli anni, anche quando la Biennale non c'è. Quindi sarà possibile visitare la Biennale online, anche per i visitatori che non hanno potuto venire a goderne quest'anno. Quando c'è un'integrazione tra i nostri luoghi monumentali, i luoghi che abbiamo, quest'anno poi c'è stata una sinergia col Palazzo Guinigi, quindi anche questo è stato molto importante. Quindi uniamo il patrimonio artistico con alto valore culturale. Farlo nella nostra città sono 20 anni dell'attività, quindi noi siamo veramente contenti e soddisfatti per il numero di persone che hanno visitato, per il numero di commenti che ci sono stati, proprio per i fantastici, le opere che erano in piazza, nelle nostre piazze, nei nostri luoghi, e appunto proprio per questa sinergia che è quella che rende Luca così unica nel mondo.